è paradossale l'assenza di vigili urbani e semafori agli incroci nevralgici restano i disagi attore del greco sul fronte traffico e viabilità criticità evidenziate dai cittadini ai microfoni di tv city pesa l'assenza di semafori o di vigili urbani? entrambe, purtroppo è una situazione paradossale perché non abbiamo né semafori né tantomeno i vigili urbani di fronte a prima il traffico ha migliorato di molto anche se abbiamo il corso Umberto che non si sa quando si apre non lo so la peccatia del sindaco, della regione, non lo so nota magari il problema nell'assenza di semafori o di vigili urbani? si, si nota molta assenza dei vigili urbani in primis che fanno delle contravenzioni qualche giorno sì e dieci giorni no, ci vorrebbe un continuo sul posto secondo altri invece si registrano miglioramenti da quando è stato ripristinato il doppio senso manca tuttavia l'educazione civica e il rispetto delle regole secondo me il rispetto a prima con questi doppi senso è molto migliorato però io vedo che nonostante tutto i lavori alla bretella che magari dovrebbero defluire di più il traffico a Torre del Greco quello lì sono un po' stagnanti nel senso che magari li vedo sempre allo stesso modo e diciamo non c'è verso di completare la prima cosa poi quello a corso Umberto prima che diciamo taglia a Torre del Greco in due parti quelle più che altro sono le cose più critiche rispetto a prima purtroppo a Torre del Greco lo sappiamo bene le strade principali non è che sono tante però in linea di massima rispetto a prima è molto meglio appunto per le strade principali soprattutto degli incroci nota una certa pericolosità per la guida degli automobilisti o per il passaggio dei pedoni vedo molto gente indisciplinata che magari anche in una rotonda o magari dove non è possibile sorpassare più i mezzi che le macchine fanno dei sorpassi di azzardo o magari non rispettano i segnali stradali più che altro quindi secondo lei oltre all'indisciplina degli automobilisti magari necessitano anche la presenza di semafori o di vigili urbani a volte vedo delle cose che magari rimango basito nel senso che mi chiedo ma questa è la patente dove l'ha presa Viabilità Torre del Greco, cosa pensi soprattutto degli incroci come questo di Vittorio Veneto? Un incrocio come questo? Allora innanzitutto il traffico qua è dovuto purtroppo all'orario di punta come ben sappiamo che tra un po' inizia la problematica delle scuole la problematica degli uffici e dei lavoratori che purtroppo si muovono con le auto private perché non ci sono ancora mezzi pubblici adatti a tutte le strade di Torre del Greco le vie secondarie non sono ben coperte dai mezzi pubblici in più se ci mettiamo come la giornata odierna anche i lavori pubblici fatti senza organizzare la viabilità senza organizzare dei turni di lavoro adatti succedono ingorghi come questi qua Tu guidi per la strada un mezzo? Certo Quale tipo di mezzo? Lo scooter Lo scooter proprio per evitare ingorghi di traffico come questo ci vorrebbe un po' più educazione civica